A partire da giugno il Frecciarossa che collega Perugia-Vilano e Torino farà una fermata all'andata e al ritorno anche a Terontola. È una risposta alla giusta richiesta dei comuni del Trasimeno ed è voluta anche per aumentare gli utenti e migliorare il servizio, lo ha annunciato l'assessore regionale trasporti Enrico Melasecchia. Con la prossima riapertura della vita normale, dopo la serrata del coronavirus, dice Melasecche, siamo riusciti a ottenere sul fronte ferroviario un primo significativo risultato per tutti i comuni che gravitano nell'area del Trasimeno ma anche per quelli come Cortone che si trovano nella fascia della Toscana confinante con l'Umbria. Una risposta puntuale ai sindaci dell'area del lago che pochi mesi fa erano venuti a chiedermi di operare al meglio per ottenere questo risultato. La nuova fermata diventa realtà fin dal prossimo cambio di orario di giugno, strascito della pandemia permettendo.